La nuova legge urbanistica approvata dal Consiglio regionale lo scorso novembre del 2023 al centro dell'incontro organizzato dalla provincia dell'Aquila in collaborazione con Regione, UPI e ANCE. Obiettivo fare un focus sulle sfide e le opportunità dell'urbanistica del terzo millennio non più confinata alla pianificazione territoriale ma volano del progresso e del benessere socio economico. Il territorio vive un momento di transizione storico in ambito urbanistico perché alla norma tradizionale si affianca il dinamismo di strumenti moderni come sistemi informativi, il monitoraggio, l'intelligenza artificiale, la valutazione olistica delle esigenze, l'attività negoziale, un contesto nel quale le autonomie locali assumono ruoli non solo funzionali ma anche di responsabilizzazione e indirizzo con il compito di ricollocare la programmazione al centro della pianificazione urbanistica ma ci sono anche delle criticità e vanno superate. Intanto parte da uno spirito abbastanza nobile, quello di una maggiore tutela del territorio quindi che va insomma sotto il nome del consumo del suolo, la limitazione. Diciamo emergono delle criticità, non a caso è stata differita l'entrata in vigore quindi si è dato un tempo abbastanza lungo, 24 mesi per determinarne gli effetti, la cosetta perimetrazione. Abbiamo il sentore che occorrono dei correttivi, li approfondiremo e se così come insomma in qualche modo abbiamo già immaginato di poterli proporre alla Regione, al Consiglio regionale, in questa occasione vedremo che cosa uscirà fuori, i pareri autorevoli che verranno sicuramente emessi dai relatori. Dal canto suo il Presidente della Regione Marco Marsilio ha chiarito che intanto questo strumento serviva perché mancava da 40 anni ma la Regione è pronta a recepire proposte e a fare eventualmente delle modifiche per migliorare San Pio Priu, la legge urbanistica che deve essere uno strumento dinamico. Per questo è molto importante questa legge, era molto importante e decisivo che la approvassimo, che dessimo alla Regione Abruzzo e ai comuni uno strumento adeguato, aggiornato rispetto alle esigenze del nostro tempo e non degli anni 70 nei quali era stata pensata e pianificata la legge precedente, poi dal confronto emergeranno anche magari le criticità, i limiti e siamo pronti grazie al confronto costruttivo anche a raccogliere le indicazioni che ci verranno per aggiornare continuamente questa norma.